Nel tardo Rinascimento principi, ecclesiastici, nobili, accademie e privati operarono nei rapporti con letterati artisti secondo nuove forme di patrocinio e di autopromozione. Il mecenatismo letterario e artistico a Roma, Milano, Torino e Siena, quattro città con caratteristiche e dimensioni assai diverse, è l'argomento del progetto di ricerca di interesse nazionale condotto dall'Università di Siena congiuntamente all'Università di Bergamo e all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Responsabili del progetto sono la professoressa Crizia Carminati per Bergamo, la professoressa Roberta Ferro, cui cederò tra poco la parola, per Milano Cattolica e Carlo Caruso, che vi parla per Siena. Il periodo oggetto della ricerca si situa tra la fine del Cinquecento e i primi decenni del Seicento, grosso modo tra l'inizio del pontificato di Clemente Ottavo, 1592, e all'altro capo la pubblicazione della Galleria di Giovan Battista Marino in due parti, pubblicata fra il 1619 e 1620, il più celebre libro di poesia in lode delle arti mai pubblicato nella letteratura europea. E' questa, si può dire, l'età d'oro della poesia in lode delle arti. Centinaia, anzi migliaia, di componimenti composti in questo giro d'anni, per lo più in forma epigrammatica, dunque breve, alludono e inneggiano a opere d'arte, ad artisti, a mecenati, a collezionisti. Si crea così una tradizione di scrivere e parlare di opere d'arte e di artisti che conosce una grande fortuna e si può dire giunga sino ai giorni nostri. Ma perché questa attenzione particolare alla poesia? Perché per la prosa, e particolarmente in Toscana, vero? A Ghiberti, a Vasari e oltre, noi siamo molto ben informati e proprio negli anni che il nostro progetto indaga, basti ricordare il medico e riconoscitore d'arte senese Giulio Mancini, che scrive proprio in quegli anni le sue importantissime considerazioni sulla pittura. La poesia dedicata all'arte, invece, è stata per lo più trascurata, ma è fenomeno di lunga turata anch'esso, ben oltre il limite cronologico che ci siamo dati. E per fare un unico esempio, unico ma illustre, il grande antiquario del secolo successivo, Winkelmann, nei suoi scritti a fortemente debitore verso i modi descrittivi della poesia lirica ed epigrammatica del Rinascimento e del Barocco. Il progetto prevede, tra le altre cose, l'allestimento di un grande database che raccoglierà questa gran mole di testi per porli a disposizione del pubblico, si capisce convenientemente editi e dotati di materiali esplicativi. Questo aspetto specifico del progetto è coordinato dalla professoressa Carminati. È un lavoro che impegna non solo i responsabili del progetto, ma anche informatici, storici dell'arte, storici del collezionismo, giovani ricercatori e anche studenti dei nostri tre Atenei, i quali studenti hanno così modo di sperimentare direttamente cosa significhi condurre una ricerca in ambito storico filologico. Cedo ora la parola alla professoressa Ferro. Buongiorno, sono Roberta Ferro, sono ricercatore all'Università Cattolica di Milano e coordino l'Unità Milanese di questo progetto PRIN. Gli studi e le ricerche sulla realtà milanese si sono potuti avvalere in questi ultimi anni di un buon aggiornamento bibliografico, di uno buon aggiornamento storiografico che ha potuto mettere in luce rispetto ad una visione un po' schematica e un po' irrigidita, che era in voga fino a qualche decennio fa, ecco queste ultime ricerche hanno invece messo in luce come sulla realtà milanese lombarda dei decenni a cavallo tra 5 e 600 operino una molteplicità di realtà che possiamo chiamare mecenatizie, non solo famiglie aristocratiche, faccio solo qualche nome, Francesco Dadda ma anche Pirro Visconti, Muzio Sforza Marchese di Caravaggio, principe dell'Accademia degli Inquieti, la famiglia Sacchi, la famiglia Cantoni, non solo le famiglie aristocratiche ma anche il mecenatismo della chiesa e come non ricordare la grande figura di Federico Borromeo che nel 1609 apre al pubblico la biblioteca e da lì a poco la pinacoteca ambrosiana ma accanto a questi due soggetti anche la presenza dei governatori spagnoli che si stanno rivelando, si sono rivelati in questi ultimi anni a loro volta patrocinatori o coordinatori di attività artistiche o culturali in senso più ampio. Insomma attorno a queste identità è stato possibile collocare iniziative di carattere festivo, editoriale, di patrocinio artistico, una serie di manifestazioni di quel contatto tra il potere e la sua rappresentazione che costituisce uno dei presupposti di questo progetto PRI. Allora accanto al lavoro svolto dalle altre unità e in coordinazione con il loro lavoro l'unità lombarda osserverà da vicino alcune di queste iniziative culturali. Faccio subito un esempio maggiore la figura di Girolamo Borsieri un poeta erudito comasco attivo però certamente nel contesto milanese e lombardo. A lui dobbiamo due opere che saranno oggetto di questo studio di questa catalogazione una grande raccolta epistolare due libri di lettere 800 missive la maggior parte ancora inedite molte già studiate apprezzate dagli storici dell'arte che saranno studiate rese note al pubblico e catalogate e poi l'altra grande opera di Borsieri che qui ci interessa è la raccolta poetica sette libri di madrigali pubblicati tra il 1611 e il 1612 intitolata scherzi madrigali molto simili ai madrigali della galleria di marino e che dunque dimostrano anch'essi quella sinergia tra l'arte della parola e le arti figurative che ritroviamo nelle poesie della galleria o in quella grande tradizione dei madrigali ecfrastici o alla maniera degli epigrammi antichi dei poeti contemporanei in primis marino. Anche questi testi di Borsieri sono dunque oggetto di analisi e di studio e permetteranno di far affiorare concretamente e di rendere disponibile agli studiosi e al pubblico quell'intreccio virtuoso tra le arti sorelle che dunque si realizza anche nel contesto milanese. Non è difficile credo anche rispetto a quanto la professoressa Fer ci ha appena illustrato riguardo Milano immaginare un'analoga ricchezza e complessibilità di fenomeni per le altre tre città oggetto della nostra ricerca cioè Roma, Siena, Torino. Gli agenti del mecenatismo saranno naturalmente volta a volta diversi. A Roma prevarranno papi direi cardinali, a Siena famiglie patrizie e la figura singolare del balime diceo. A Torino il duca di Savoia. Grazie all'esame di tale varietà di protagonisti, propositi e risultati sarà possibile apprezzare appieno l'importanza del mecenatismo letterario, come questo sia andato costantemente a braccetto con quello artistico in contesti sociopolitici anche molto diversi, ma direi accomunati da un'identica attenzione e direi passione per la qualità, oltre che per l'utilità, delle diverse forme di espressione artistica.